ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video aggiornamento questo sarà un video un po misto ci sono altre uova di pasqua ci saranno novità lol soprattutto sui nuovi fuzzy pets e poi avremo nuove cose di poopsie sparkly critters le banane nuove e anche tantissime lol fake e custom che voglio farvi vedere quindi un sacco di roba le metterò un po sparse così da non annoiarvi e quindi vedremo un po di cose lol all'inizio poi un po a metà e un po alla fine così insomma non vi annoiate iniziamo subito se questo tipo di video vi piace mettetemi un bel like e ditemelo nei commenti la prima cosa che andiamo a vedere sono le novità insomma dei nuovi fuzzy pets della seconda serie questi sono quelli che possiamo trovare appunto alcuni di quelli che possiamo trovare nella seconda serie fatemi sapere se avete già comprato la prima serie perché è uscita nei negozi e se vi è piaciuta io non so se li aprirò perché non sto collezionando più i pets delle lol però fatemelo sapere nei commenti come vedete ce ne sono di molto carini anche quello di young qt di boss queen e di skater girl quindi molto belli e anche quest'altri come per esempio quello di pop art che mi sembra molto carino fatemi sapere quali piacciono di più a voi e quali a quali mirate di più insomma e se eravate già a conoscenza di questa nuova serie insomma dei fuzzy pets 2 dopo questo invece andiamo a vedere un attimino alcune cose dei poopsie sparkly non poopsie sparkly critters ma la serie dei mini i cutie tootie sono questi qua allora questa è la seconda serie la prima ancora da noi non è arrivata ma probabilmente arriverà presto visto che sono arrivati poopsie sparkly critters devo dire che questi piccoli a me non fanno impazzire sono sincera mi sanno un po creepy un po insomma come posso dire un po strani diciamo non mi piacciono tantissimo l'accostamento di questo corpo da bambino e le teste così di cose a caso tipo nuvole oppure la luna oppure un fiore insomma non mi fanno impazzire non lo so magari devo vederli dal vivo non so se ne prenderò uno per vedere come sono oppure no però devo dire che invece amo alla follia i poopsie sparkly critters ma lo sapete perché me ne ho aperti un sacco sul canale quindi a mio modesto parere vi consiglio quelli anche per il prezzo questi qua insomma non costano poco anche su internet però insomma c'è a chi piacciono quindi fate voi ecco io vi ho fatto vedere questa qua che era la seconda serie quindi se vi interessa uscirà poi c'è una seconda serie delle bananas questa penso che una ne prenderò perché devo dire che adoro i colori che hanno usato per queste nuove banane che sono tutti sfumati abbastanza fluo e mi piacciono spero che il prezzo non sia troppo elevato anche se l'altra volta 7,50 era un po alto magari lo cercherò sui 5 euro se lo trovo e volevo farvi vedere non tutta la checklist perché tanti personaggi sono simili a quelli della prima serie anche se ha diversi animali ma volevo farvi vedere che c'è addirittura sindilu cthulhu è un mostro marino ovviamente non reale ma inventato ma è veramente spaventoso quello vero ma l'hanno fatto così puccioso che mi piace tantissimo e lo vorrei un sacco adesso invece andiamo a vedere un po di fake lol ma sempre associate alle bananas perché le hanno fatte nella confezione delle bananas ecco qua la confezione e sono appunto alcune delle under wraps sulla confezione ovviamente noi non troveremo le under wraps dentro perché sono fake quindi se le trovate in giro dai cinesi così le cose che potete trovare dentro sono queste versioni qua di bamboline veramente brutto il corpo perché non è proprio per niente uguale a quello delle lol ve l'hanno già aperta una di fake così e è la variante di corpo peggiore questa dovrebbe essere credo boss queen ispirata e poi abbiamo quest'altra la faccia non è fatta neanche male di questa in realtà però poi il corpo e i vestiti sono veramente bruttissimi e sono fatti così colore tinta unica e poi gli soliti occhialetti che non stanno neanche bene alle lol e il corpo diverso poi abbiamo addirittura questa sempre delle under wraps che insomma pure questa veramente bruttissima fatemi sapere che ne pensate nei commenti e lei che dovrebbe essere quella ispirata a madonna 80s bb però l'hanno fatta con i capelli direttamente marroni quindi non cambia colore questa invece è una custom lol che è veramente spettacolare vorrei tantissimo rifarla anche io è ispirata a tema galassia e costellazioni e è veramente stupenda anche l'idea di farla con gli occhi chiusi mi piace tantissimo come se stesse tipo fluttuando nello spazio è veramente bella volevo farvela vedere perché sicuramente vi piacerà ora invece passiamo un attimo a delle uova e poi torniamo alle lol tra poco altre uova di pasqua che potete trovare sono questa di alvin superstar della valkor non so cosa si può trovare dentro però purtroppo perché ovviamente non c'è la checklist questi dei my little pony che è di nuovo un riciclo di quelli degli altri anni dentro ci si trovano tipo delle cose di pongo mi pare e la maschera fuori insomma e questi invece che sono della zaini e sono delle wings sono degli ovetti ovviamente con anche dei personaggini e anche questi qua dei dragon trainer questi sono abbastanza carini quindi se volete prendere dei piccoli ovetti ve li consiglio poi abbiamo questi altri degli hatchlings all'interno non so cosa si possa trovare però fuori c'è questo peluscino adorabile dell'uccellino questo è della balocco poi abbiamo questi altri dei trolls e pure qui non so cosa si possa trovare sono della motta poi abbiamo questi altri qua delle emoji che mi pare ci fossero anche altri anni uguali e dentro boh si trovano cose casuali anche astuccini però insomma niente di particolare poi questi qua della bauli di questo cartone che purtroppo io non conosco comunque se lo conoscete ditemelo nei commenti e dei transformers poi quest'altro che mi sa l'avevo già fatto vedere ma non benissimo della playmobil della valcore dentro si trova un personaggino playmobil quindi questo mi sembra un ottimo regalo questa invece è una delle sorprese che si possono trovare nelle uova kinder delle Winx non so se quest'anno le prenderò allora la figure è molto valida perché è come quella dell'anno scorso però i vestiti nuovi non mi fanno impazzire quindi non so se le prenderò poi c'è questa novità cioè non è una novità in realtà mi sa che è uscita già da un po' però io non ne ero a conoscenza quindi ve la faccio vedere sul sito EMP ma comunque li trovate anche in giro ci sono anche i Funko Pop degli Shopkins questo qua è quello della mela e mi sapeva troppo carino poi un'altra novità che ho scoperto piano piano dell'Erdorables serie 3 è questa qua cioè che alcune dell'Erdorables sarà possibile insomma fargli la messa in piega ai capelli cioè fargli dei capelli o abboccolati oppure frisè e mi piace tantissimo questa cosa che si possano fare delle pettinature vere e proprie col calore sui capelli senza che si rovinino almeno così pare quindi vedrò e questa è tutta la checklist sono tutte fantastiche c'è anche Harmony stupenda ispirata alle costellazioni cioè troppo 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 belle e ognuna di loro avrà anche cioè alcune di loro avranno anche una mini un mini oggettino a forma di arricciacapelli troppo carino ora torniamo a un altro po' di uova e poi passiamo alle LOL allora un'altra della Valkor che è questa qua di Godzilla credo si trovi semplicemente una pila che fa la sagoma la foto insomma di Godzilla poi c'è questo qua di Gardaland della Paluani so se si troveranno in tutti i negozi ovviamente però poi abbiamo quest'altra qua della pecora adesso non mi ricordo come si chiama il nome preciso però vabbè questo cartone qua poi dell'autore di Wallace and Gromit tra l'altro poi c'è questo qua di quest'altro cartone per bambini ora io purtroppo non sono super esperta di cartoni perché non li guardo più quelli di Boeing però e poi abbiamo quest'altra di Mascia e Orso con il cuscinetto fuori a peluche e dentro non ne ho idea poi abbiamo quest'altro delle Enchantimals pure qua non so che sorpresa si trova però sicuramente mi incuriosisce e fuori c'è questo cerchietto con le orecchie pelusciose ora torniamo appunto ad altre LOL fake allora c'è questa qua con l'immagine di quella di VRQT delle confetti pop e dentro c'è la ragazza insomma ha trovato questa qua di LOL che non è neanche malissimo devo dire poi abbiamo quest'altra con Faro Babe e all'interno invece questa è una cosa tanto particolare tanto divertente allora a parte vi arriva così tutta smembrata con un sacco di accessori ma la cosa più buffa è che arriva sì con delle scarpe LOL ma anche delle scarpe da Barbie quindi praticamente voi cioè potete usare questi oggetti anche per le vostre Barbie e niente la LOL in sé è questa qua non è tra le migliori onestamente che ho visto di fake però la cosa più divertente sono state quelle scarpe enormi di Barbie e un'altra cosa divertente è che c'è anche una spazzola per capelli pure se poi questa LOL i capelli veri non ce li ha altro tipo di LOL fake sono queste che non avevo mai visto e sono dei cupcake LOL quindi ispirate appunto alle dolline cupcake che abbiamo già aperto insieme e in pratica appunto sono come quelle solo che ci hanno messo la testa di una LOL devo dire che alla fine malaccio non è cioè non sembra la più brutta che ho visto questa invece è un pochino peggio forse però quella al cioccolato è più carina hanno fatto anche una fake delle Bigger Surprise tipo solo in versione natalizia però vabbè vi faccio solo vedere la scatola perché era divertente e poi anche queste qua ora si stanno specializzando in queste qua a forma di lattina e c'è sia la versione femminile che la versione maschile questa qua è di Kitty Queen e poi c'era quella con Punk Boy che avevamo visto la scorsa volta e all'interno si trova appunto in quella femminile tipo questa che è veramente orribile veramente una delle facce più brutte che abbia mai visto tra le fake LOL e in quella maschile oltre a Punk Boy si può trovare anche quest'altro maschietto qua che pure questo è veramente orribile proprio brutto poi c'è questa qua che avevo visto anche nella mia edicola però costava tantissimo e non l'ho presa tipo 15 euro assolutamente no e è ispirata alle under wraps ma è più piccola questa addirittura hanno fatto anche la diciamo la cover in silicone fuori e devo dire che dentro non è neanche male anzi è molto carina e è veramente carina questa sì sì come fake è una delle migliori un'altra particolare è questa qua ispirata a Unicorn e ha una cosa molto particolare anche questa all'interno perché vabbè la ball fuori è tutta a tema unicornoso la LOL è fatta così ha anche i glitter tra l'altro sui capelli e la cosa particolare è che ha anche un corno per la LOL stessa ma anche la ball potete customizzarla e farla diventare un unicorno perché c'erano le orecchie e il corno all'interno e li potete mettere un'altra novità invece sono i Poopsie Slime Surprise questa è la terza serie scusate terza serie e c'è anche la sirenetta e il narvalo che sono molto carini all'interno le bustine sono sempre olografiche ma stavolta dorate e ora vi faccio vedere insomma un po' la checklist e quelli che hanno trovato qua per esempio questo era aveva tipo le alette erano un uola con le alette e allora sono carini ora purtroppo a me non piace tanto il design della cacchina in sé e degli occhi e la bocca della cacchina quindi non credo che le prenderò però sono comunque divertenti se volete farle il prezzo in Italia della prima serie era sui 15 euro quindi probabilmente le troverete a quel prezzo questa è tutta la checklist ci sono vari tipi di personaggi e varie bibite ispirate a quelle reali però io ripeto di queste serie qua i miei preferiti rimangono soltanto i Poopsie Sparkly Critters questi si sono carini però non mi convincono quindi non so se li prenderò però ve li volevo far vedere perché magari a voi piacciono e volete prenderli detto ciò penso che possa essere tutto intanto scorre qualche altra immagine questo per esempio è l'alce e fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti di tutte queste novità se le conoscevate se vi interessa qualcosa in particolare se questi video vi piacciono come al solito vi invito a lasciare un bel pollice in su iscrivervi al canale e partecipare al giveaway anche perché tra poco si chiuderà cioè insomma tra breve si chiuderà e noi ci vediamo al prossimo video fatemi sapere nei commenti che altri tipi di video cose vorreste che io aprissi sul canale e ci vediamo alla prossima vi mando un bacione un salutone ciao ciao ciao